Oggi è giovedì, giusto? Giovedì, questi sono i superstiti del cantiere. Alessio D'Amico Rossella Clemente Eugenio Diberi Alessia Maladini La Mona Gargano Fisciatevi, scusatevi Cioè, no, per carità, abbiamo un rapporto bellissimo E poi lo voto soprattutto perché dice che si scarica sempre la bastiglia della macchina per fissare le lezioni, ma non è vero, non è vero, però... Adesso e fra quando dobbiamo mandare la pubblicità, ci devi dare i tuoi nomi Chi vuoi eliminare fra questi tre? Aspetta, fammi li guarda un altro Eugenio Diberi Eugenio Diberi Eugenio Diberi Eugenio Diberi Eugenio Diberi Eugenio Diberi